Sicuramente è stata una partita bella tra due squadre importanti, loro tutti i ragazzi giovani, quindi tanta corsa, hanno due o tre buone individualità, hanno trovato 3-4 gol con Valentini che a calciotto è importante avere un giocatore calciato a fuori con questa determinazione, con questa potenza. Quindi noi non siamo riusciti a fare il possesso da dietro, quello che c'era riuscito nelle altre due partite. Comunque il campionato è lungo, noi anche siamo una squadra importante, oggi ci mancavano 3-4 giocatori importanti, andiamo avanti, oggi è andata così.